E questo è un fatto, dice sono seguite le conferenze stampa, certo che sono seguite, certo che sono seguite e lo sapete benissimo anche voi, lo sa bene lei, lo sa bene il capo della sua comunicazione, non è forse neanche un caso che lei utilizzi termini tipo devo fare i nomi e i cognomi come se stesse facendo le nomination del grande fratello, Presidente Conte. Non è un caso, però l'Italia non è un reality show, questo non è un reality show e noi non consentiremo che questo diventi un reality show. Allora la domanda che io ho da fare è, è normale che la Costituzione, fonte primaria di ciascun diritto dei nostri cittadini sia sostanzialmente sospesa e che ci siano tra coloro che la sostengono alcuni che dicono che insomma è giusto, è normale, è normale che neanche di fronte ai rilievi non di Giorgia Meloni, la pericolosa irresponsabile Giorgia Meloni, ma dalla Presidente della Corte Costituzionale che ha fatto un richiamo molto duro al Governo su questo tema vi poniate il problema. È normale che in Italia la fonte primaria del diritto siano diventate le FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risposte alle domande frequenti, perché in 70 giorni avete fatto 218 atti dei quali non si capisce assolutamente niente e la gente vi deve chiedere in ginocchio di avere una risposta chiara. È normale.